Imane Merga, dopo il Bo Classic, il Devasting Bo Classic, sono pronti per il Campaccio tomorrow? Sì, sono pronti. Qual è la tua condizione? Ti senti in forma molto buona? Sì, sono pronti in forma buona, ma ho provato di giocare tomorrow. Non ti fai scoperti del muro, perché probabilmente il giorno sarà abbastanza scoperto. Non ti fai scoperto del muro. Non ti fai scoperto, ma mi piace il muro, ma non ti fai scoperto. Buona fortuna per il tomorrow. Grazie.